Musica Benvenuti e ben ritrovati da anche un buon inizio di settimana. Apriamo questa edizione del Tg Sud con la consueta notizia del giorno. Parliamo del furto con scasso al supermercato Deco di piazza Sandro Pertini a Casa Santa Erice. Hanno usato un'auto rubata per sfondare la porta d'accesso, un rocambolesco tentativo di furto che vi condensiamo in questo servizio. Due malviventi sabato notte hanno sfondato la porta d'ingresso del Deco di via Cesarò di Casa Santa Erice tentando di trafugare una macchina di bevande calde posta davanti la struttura. I ladri durante il colpo erano prima andati alla cassa più vicina all'ingresso nella speranza di trovare contanti. Ovviamente è andato a vuoto visto che, come è noto, le casse non tengono mai denaro alla fine della giornata lavorativa. Poi quindi i due hanno provato goffamente di far salire il macchinario nel minuscolo bagagliaio della 500 grigia risultata poi rubata e ritrovata nel popoloso quartiere Sant'Alberto. Insomma, dinamiche che sembrerebbero lasciar pensare a dei balordi in cerca di piccole fortune più che a dei professionisti del ramo. I due avrebbero perso del sangue ben visibile davanti l'ingresso l'indomani mattina col vetro andato in frantumi, una traccia fondamentale per gli investigatori dell'arma dei carabinieri intervenuti sul posto, così come un operatore della vigilanza già in nottata. L'ammontare dei danni si aggira sui 5.000 euro. Questo è il secondo tentato furto che nel giro di pochi giorni ricevono i supermercati Deco. Infatti, circa 15 giorni fa, anche quello di via senatore Giuseppe D'Ali a Villa Rosina a Trapani aveva ricevuto la visita di due malviventi. Anche in quella occasione i ladri restarono a bocca asciutta. Dopo un tentativo non riuscito di scassinare la cassaforte presente negli uffici, anche loro si diressero verso la macchina di bevande calde presente nel supermercato. Entrambi i Deco sono di proprietà dell'imprenditore Matteo Sottile, che proprio nella struttura che ha subito il tentato furto sabato notte aveva dato vita assieme al comune di Trapani al progetto Carrello Solidale in favore di famiglie bisognose per l'emergenza sanitaria coronavirus che ha messo tanta gente in ginocchio. I locali di via Cesaro hanno comunque ripreso oggi regolarmente il servizio ai clienti. Va bene, ci fermiamo, pausa pubblicitaria e poi il resto delle notizie. Incidente mortale in via Fardella Trapani è accaduto nella notte, vittima un uomo di 53 anni, circostanze tutte da chiarire. Riapre il campo Coni, con la fase 2 gli atleti e sportivi trapanesi potranno tornare ad allenarsi nell'impianto situato sul lungomare Dante Lighieri. Completata la potatura a Villa Margherita, i lavori hanno sfrondato i ficus del perimetro del giardino comunale trapanese, questa volta rispettando le piante. Per lo sport, attesi al rientro, oggi dovrebbero tornare in città diversi giocatori e parte dello staff tecnico del Trapani Calcio in attesa di sapere che cosa fare. Il centrocampista Rizzato intanto è il protagonista della Marcord a cura di Fabio Tartanella. Purtroppo avremo la settimana in maniera negativa con questo incidente mortale in via Fardella che è accaduto la scorsa notte e le circostanze sono ancora davvero tutte da chiarire. Una morte dai contorni ancora poco chiari, quella di un uomo di 53 anni, trapanese, investito poco dopo la mezzanotte di ieri in via Fardella, lato sud, all'altezza del terzo isolato, al civico 30, alcune decine di metri dopo la chiesa dei Salesiani. Gli investigatori dei carabinieri, che stanno esaminando anche le riprese di alcune telecamere di videosorveglianza, sono chiamati a chiarire le circostanze dell'incidente, se tale si potrà definire. Sembra che l'investitore abbia dichiarato di non aver potuto evitare l'impatto perché l'uomo si trovava già disteso sul manto stradale. Circostanza che potrebbe far propendere per un malore della vittima o addirittura per un suicidio. Fosse vera quest'ultima ipotesi è la ragione per cui non diamo il nome della vittima. La segnalazione del cadavere sulla via Fardella è stata inoltrata ai carabinieri, oltre che dall'investitore anche dal personale dell'Istituto di Guardie e Giurate e la Vigilanza. Uno degli operatori in servizio nella via Nicolò Riccio, messo sull'avviso da un passante, ha verificato e poi allertato carabinieri e 118. I carabinieri di Castelvetrano, con il supporto della stazione di Marinella di Selinunte, hanno arrestato Brian Lanzoni, 24 anni, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed hanno anche arrestato Emanuele Lavecchia, uno studente castelvetranese di 23 anni, per resistenza pubblico ufficiale. I carabinieri hanno sorpreso Lanzoni mentre cedeva alla Lavecchia cinque involucri contenenti Mariuana. Lo studente alla guida di un auto, con a bordo altri due giovani castelvetranesi, invece di fermarsi all'atto dei militari, si è allontanato velocemente. Fermato da tre pattuglie, Lavecchia è stato successivamente posto agli arresti domiciliari. Stesso provvedimento per Lanzoni, sono entrambi in attesa di giudizio per Direttissima. Era una notizia che si aspettava da tempo, i lavori al Campo Coni, quelli di scerbatura e polizia, sono stati ultimati. Mercoledì finalmente il Campo Coni potrà riaprire. Finalmente apre il Campo Coni per l'importanza strategica che ha non solo per gli sportivi cittadini. A differenza degli altri posti abbiamo dovuto sistemare un po' meglio il protocollo che è previsto per il Covid-19, in quanto il nostro consulente ha preventivamente pensato che essendo un sito particolare bisogna di attenzioni. Noi continuiamo Campo Coni, è un progetto che prevediamo nel giro di pochi mesi di poterlo completare completamente tutto, cioè che i corpi di fabbrica già recuperati, uno è totalmente pronto, gli altri abbiamo appaltato dei lavori, potremmo dire di sistemarli insieme alla gradinata nell'arco di poco tempo. Era importante aprire questo sito, ripeto non solo perché la gente ovviamente non vedeva l'ora di questo, ma per strategicamente quello che può significare anche per il futuro. Infatti non era solo pulirlo o comunque in questi due mesi quello che è venuto fuori anche come discerbatura, ma per tutto ciò che riguarda le attenzioni che nel passato erano state date e che purtroppo con questa sventura del Covid abbiamo dovuto interrompere. Oltre alla pulizia e alla scerbatura dell'impianto è scattato quindi anche il protocollo per il Covid. Cosa significa? Significa che questo sito essendo particolarmente frequentato era normale che ci vuole un protocollo ben preciso, cioè che dopo l'uso dei bagni è necessario che ci sia un intervento, perché è previsto così da questo protocollo. Rispetto ad altri siti quindi bisognava avere più attenzione, avremmo potuto aprirlo prima senza questo perfezionamento di intenti. Un intervento di pulizia? Un intervento di pulizia è un conto, ma tutto ciò che riguarda, ripeto, il protocollo quotidiano dell'igiene dei bagni dovevamo regolamentarlo meglio ed è ciò che verrà fatto da mercoledì in poi. Nel frattempo la ditta incaricata dal Comune di Trapani ha quasi completati i lavori alla Villa Margherita. L'intervento di potatura degli alberi che costituiscono il perimetro della Villa Margherita di Trapani è giunto quasi alla fine. Un lavoro che testimonia che questa amministrazione finalmente sembra aver fatto pace con il verde pubblico. La sfrondatura, infatti, è stata selettiva e l'intervento si è limitato alla pulizia della chioma a partire dall'interno. Insomma, non la solita capitozzatura selvaggia, ma un lavoro più accorto e rispettoso delle piante. Come da tempo chiedeva l'Associazione per il verde pubblico e privato e per il decoro urbano Eritros, che riunisce numerosi cittadini attenti al rispetto dell'ambiente delle piante e che con le loro attività di cittadinanza attiva hanno cominciato a modificare anche l'atteggiamento del servizio verde pubblico del Comune di Trapani che, in verità, nel passato, anche recente, non aveva brillato per cura degli alberi. Sono stati potati un centinaio di esemplari di ficus microcarpa e rappresentano il perimetro verde entro cui è racchiuso il giardino della Villa Margherita. Inizialmente sistemata intorno al 1860 come sola villa, fu trasformata in giardino con la piantumazione di alberi, anche di provenienza tropicale, durante il mandato del sindaco Enrico Fardella nel 1878 e inaugurata nel 1889 con la dedica alla regina Margherita di Savoia. Nei due ettari di viali ed aiuole, la Villa Margherita conserva, come nei migliori giardini ottocenteschi, esemplari particolarissimi di piante, palme delle Canarie di provenienza subtropicale, pini, cespugli di oleandro, un olivo di boemia e un albero volgalmente chiamato albero botte o falso capoc che si distingue per l'ingrossamento del tronco. Quasi un orto botanico, un monumento al verde, presente in tutti i manuali di architettura dei giardini e per questo sottoposto a vincolo paesaggistico e storico architettonico. Le sedra dei ficus ospita come noto il teatro all'aperto Giuseppe Di Stefano per le rappresentazioni del luglio musicale trapanese, uno spazio in cui l'acustica è favorita proprio dalla cupola costituita dal fogliame dei ficus. Il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, e il presidente del Consiglio Comunale, Enzo Sturiano, hanno reso omaggio alle vittime civili dell'11 maggio 1943 uccise nel bombardamento della città da parte degli aerei alleati. I nomi delle vittime sono riportati sulla stele di Villa del Rosario. Qui Di Girolamo e Sturiano, come vedete dalle immagini, hanno osservato un momento di raccoglimento e hanno deposto una corona da loro. Una brevissima cerimonia, ovviamente, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, che però le autorità comunali hanno voluto comunque tenere, ricordando appunto quell'evento luttuoso che sconvolse Marsala nella Seconda Guerra Mondiale. La città, l'11 maggio del 1860, tra l'altro, fu pure protagonista di una delle più belle pagine della storia risorgimentale. Per questo oggi, idealmente, va rivolto un pensiero anche ai tanti garibaldini che dopo lo sbarco dei mille a Marsala sacrificarono la propria vita per l'Italia unita. Una comunicazione di servizio da parte di ATM Trapani. Da oggi al terminal di piazza Giovanni Paolo II, ovviamente nel capoluogo, sono nuovamente aperti gli uffici abbonamenti, sia per le corse dei bus che per il rinnovo dei parcheggi a pagamento. L'amministratore unico, Salvatore Barone, comunica inoltre che gli abbonamenti per Estrisce Blu, che scadevano nel mese di aprile, sono stati automaticamente prorogati per tutto il mese di maggio. Avvocati penalisti, economicamente allo stremo. Da mesi non ricevono i pagamenti dello Stato per il gratuito patrocinio e da ultimo sono stati messi in ginocchio dalla interruzione dell'attività causata dalla pandemia. Vediamo il servizio. Il mancato pagamento degli onorari per gratuito patrocinio agli avvocati del distretto di Palermo e Trapani è divenuto oggetto di una interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Carolina Varchi di Fratelli d'Italia, componente della Commissione Giustizia della Camera. La deputata ha recepito le richieste emerse dal confronto con gli avvocati della Camera Penale Civile di Trapani e in un atto ispettivo ha sollecitato chiarimenti e interventi al Ministro della Giustizia Leonardo Bonafede ricordando che l'intera categoria ha sostanzialmente sospeso l'attività professionale a causa delle misure di contenimento del coronavirus. Molti dovendo ricorrere al sostegno dei 600 euro. Dei 9.000 professionisti che lavorano nel distretto giudiziario di Palermo, che comprende anche i tribunali di Termini Imerese, Trapani, Marsala, Grigento e Sciacca, ben 5.600 avvocati, ossia più della metà, si sono trovati in difficoltà economica e sono dovuti ricorrere al sostegno dello Stato. Circostanza che, forse, molti professionisti avrebbero potuto evitare se fossero stati pagati con puntualità per i patrocini gratuiti a spese dello Stato. Pagamenti fermi da moltissimi mesi. La deputata, nell'interrogazione, sollecita il Ministro ad assegnare al Tribunale di Trapani l'organico amministrativo indispensabile per dotarsi di una tesoreria autonoma che provveda alla liquidazione degli onorari per l'attività professionale resa. Nei mesi scorsi, prima dell'esplosione della pandemia, gli avvocati delle Camere Penali di Trapani e Marsala avevano attivato una protesta minacciando anche l'astenzione dalle udienze. Salemi punta sulla mobilità green. Prima abbiamo visto, quando paravo di attieme, delle foto. In realtà erano le colonnine ecole di ricarica elettrica per veicoli che sono in corso di installazione con una azienda che ha stipulato un protocollo d'intesa con il comune di Salemi della durata di 12 anni. Le colonnine saranno attivate in corso dei mille in un'area adiacente a Piazza della Libertà e in via San Leonardo nei pressi di Piazza Vittime di Nasseria. Le stazioni di ricarica saranno accessibili 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 ore. Il comune ha fornito le aree di suolo pubblico gratuitamente per tutta la durata del protocollo d'intesa creando gli stalli di sosta riservati. Adesso ci fermiamo e vediamo quali sono le previsioni meteorologiche per la giornata e anche per domani. Nel pomeriggio cielo sereno temperature comprese tra i 17 e i 20 gradi venti da nord-ovest mare poco mosso In serata cielo sereno temperature comprese tra i 16 e i 19 gradi venti da nord-ovest mare poco mosso Nella mattinata di domani cielo sereno temperature comprese tra i 17 e i 23 gradi venti da ovest mare poco mosso Nel pomeriggio di domani cielo sereno temperature comprese tra i 20 e i 24 gradi venti da nord-est mare poco mosso Per gli appuntamenti su Tele Sud come di conseto stasera a Seconda Repubblica alle ore 21 e alle ore 23 in replica in studio due consiglieri comunali del capoluogo in particolare la consigliera di maggioranza Giulia Passalacqua e il collega consigliere di opposizione Gaspare Gianformaggio si fa il punto della situazione sugli aiuti alle famiglie e alle imprese in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19 Pausa e poi lo sport Trabani Calcio oggi è il giorno del rientro in sede per alcuni giocatori ma non parleremo solo di questo in questo spazio sportivo perché c'è Simone Rizzato che rompe la sua consueta riservatezza e viene intervistato da Fabio Tartamella Simone ricorda soprattutto la finale di Pescara un momento che tiene nel cuore e nella memoria vi lascio a Fabio Tartamella A Loi, Scognamillo, Togordò, Luperini, Ben David, Biebiani e Stremberg questi sette calciatori del Trapani che non essendo rimasti in città dovrebbero fare oggi ritorno in sede è ovvio che non potranno neanche recarsi all'appuntamento fissato per le ore 17 allo stadio provinciale dato che dovranno osservare la quarantena di 14 giorni stesso destino toccherà all'intero staff tecnico Fabrizio Castori compreso fino al prossimo 18 maggio, se non interverranno novità la squadra non potrà allenarsi neanche a scaglioni o individualmente sotto la direzione dello staff e ognuno degli atleti Granata proseguirà con il piano di lavoro personalizzato sempre in attesa che si capisca qualcosa sul futuro di questa stagione ancora totalmente incerto intanto oggi ascoltiamo le parole di un altro ex Granata rimasto nel cuore dei tifosi per le sue doti tecniche e umane Simone Rizzato ci piace Simone che tu oggi possa ricordare i tuoi tempi con il Trapani fare gli auguri al Trapani per i suoi 115 anni noi ci ricordiamo soprattutto il tuo gol in quella partita di Cittadella che arrivò dopo la notte di San Siro però giustamente non è il solo come tu ci ricordi mi hai descritto come un ragazzo riservato e devo darti ragione magari lascio trasparire poco le mie emozioni tramite social oppure interviste però posso garantirti che nei 4 anni vissuti a Trapati di emozioni ne ho vissute tante e spesso parlando anche con mia moglie diciamo che se non avessimo avuto gli affetti familiari lontani Trapani sarebbe stata la città ideale in cui vivere e niente mi hai chiesto una partita che mi è rimasta particolarmente nel cuore a Trapani guarda io ti dico la partita della finale persa con il Pescara perché penso che quella partita racchiuda sia per me che per la storia del Trapani l'apice perché non avevamo mai raggiunto un punto così alto e poi quella partita racchiude un'annata fantastica dove si era creata un'alchimia tra squadra, tifosi, staff tecnico e tutto quello che girava intorno al Trapani calcio fantastica abbiamo raggiunto il cerone di ritorno 16 risultati utili consecutivi 8 vittorie o 9 che sono stati un record quindi quella partita secondo me racchiude tutto e sono state emozioni indescrivibili faccio gli auguri inoltre alla società Trapani calcio per i suoi 115 anni di storia e gli auguro io adesso non conosco la società attuale però ho avuto la fortuna di vivere in una società che devo essere onesto ha fatto la differenza con persone all'interno che non avevo forse mai incontrato nel calcio con le quali mi sono trovata la grande e penso che siano anche un esempio di programmazione e anche di risultati perché hanno portato il Trapani calcio dall'eccellenza fino al raggiungimento della finale playoff per la Serie A quindi auguro al Trapani calcio di trovare sempre persone con le quali lavorare come ho trovato io e poi voglio ringraziare anche personalmente i tifosi che con me sono stati eccezionali mi hanno sempre dimostrato grande stima ed affetto e tutta quella emozione me la porto nel cuore ogni volta che ci ripenso spero che ci rincontriamo presto sicuramente vogliamo tornare sia io che mia moglie con i bambini adesso un po' cresciuti e a trovare molte persone a Trapani quindi speriamo che la situazione migliori nel più breve tempo possibile e di vederci magari sugli spazi attivare insieme per il Trapani ciao a tutti un abbraccio e forza Trapani